Cari amici e cari amici, esistono due tipi di informazione, la vera informazione e la falsa informazione. Apprendiamo dalla Repubblica, il Corriere della Sera, i vari TG in televisione che la loro è la vera informazione e invece quella che danno canali tipo il Decimo Toro che sta su Youtube è piena di fake news. Il fatto sta che ieri mi ha inviato qualcuno, non so chi, un video che io ho pubblicato esattamente 24 ore fa intitolato Italia in rivolta, italiani in rivolta, immagini drammatiche, un video di 7 minuti dove non mi erano state date informazioni. Io l'ho pubblicato, mi sembrava a Roma perché vivo a Roma, ma non ho potuto scriverlo perché non ne ero sicuro e questo video sapete quante visualizzazioni ha adesso? 104.000, quelle che risultano a voi, ma in realtà io con i dati di Youtube ho superato le 110.000 adesso, in 24 ore. Italiani che protestano, si vedono, famigliole con bambini così, e arriva la polizia e li blocca da una parte all'altra della strada e li terrorizza. Nessuno ne parla dei giornali, poi oggi sono venuto a sapere casualmente che avevo ragione nel pensare fosse Roma perché è stata a Roma, si è verificato questo episodio. I telegiornali niente, muti, zitti, perché devono far vedere che gli italiani sono bravi e stanno con la museruola a casa, stanno con la museruola a casa. La vera informazione è quella loro. Adesso vi leggo una notizia dall'ANSA, anche questa agenzia ANSA famosissima, la grande informazione, sentite qua. Allora, si intitola Coronavirus, Organizzazione Mondiale Salita, Salute Mentale, a rischio. Isolamento, avore e crisi economica producono danni psicologici. Qui ci stanno fiorfiori di medici per ricavare questa notizia e fiorfiori di giornalisti per scrivere. Sentite che bomba. Anche la salute mentale, non solo fisica, è a rischio a causa della pandemia del coronavirus. Lo rileva Deborah Kester, direttrice del Dipartimento Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, presentando un rapporto ONU sul tema. L'isolamento, la paura, l'incertezza, le turbulenze economiche, tutti questi elementi causano sofferenze psicologiche. Probabile sarà un aumento di casi di malattie mentali già in atto, questione che i governi dovrebbero mettere in primo piano. E poi continua. E questa è la notizia bomba. Questa è la notizia bomba che adesso sta in prima pagina all'ANSA. Quindi le notizie che vi dà il decimo d'oro, che vi fa vedere che hanno avuto 110.000 e passa visualizzazioni in 24 ore, quelle sono fake news, il documento con polizia schierata che blocca queste famigliote che protestavano con uno che si sente «No, non ci caricate, ma stiamo morendo di fame, ma perché fate questo? Siamo pacifici, siamo con i nostri figli». Quella non va data, quella notizia. La dà il decimo d'oro, e il decimo d'oro è immondizio ovviamente, perché le vere notizie sono queste qui. La notizia bomba dell'ANSA, il coronavirus causa l'isolamento e questo isolamento, incertezza e turbolenza economica potrebbero causare sofferenze psicologiche. Notizia bomba. Va bene, va bene. Traete voi le vostre conclusioni. Un pollice su primo d'oro, sempre inchiudati al decimo d'oro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.